Musica Bella ragazzi che vi è ritrovati in questo nuovo video questo è un mio primo vlog che faccio vlog di fine anno ho deciso di farlo così senza programmare nulla e voglio farlo innanzitutto per ringraziare per ringraziarvi tutti quanti per il sostegno specialmente nell'ultimo quadrimestre in cui molte persone, molti di voi hanno iniziato a seguirmi e per me è un grande successo perché onestamente non pensavo si potesse creare una piccola community così e soprattutto quello che mi ha fatto veramente molto piacere e che mi ha riscaldato il cuore è tutte le richieste di amicizia e in particolare con alcuni di voi potrei citarne tantissimi Stefano, Vincenzo, Andrea tantissimi perché onestamente poter condividere con voi la nostra stessa passione e in più guadagnare degli amici è qualcosa che in questo 2017 non mi sarei aspettato quindi questo vlog è il primo non ne faccio normalmente di questi oltretutto con questo tipo di inquadratura e con questo sonoro e quindi cosa, cosa, perché questo vlog? perché vi avevo parlato di un unboxing un po' particolare e siccome io cerco di essere fedele alle mie promesse volevo parlarvi di questo vlog anche se la mia compagna mi ha detto no, non parlare di quello che sto per parlarvi perché non c'entra nulla con il tuo canale e poi potrebbe dar fastidio disturbare, forviare i tuoi iscritti allora gli do ragione però siccome bisogna dare una spiegazione alle cose quindi come vedete cerco l'inquadratura con la miglior luce possibile ragazzi, allora io condivido con voi comunque quella che è un'altra delle mie passioni vi dicevo che è più o meno simile alla simulazione ma non c'entra nulla con la simulazione di guida si tratta di quei due famosi pacchi che aspettavo che vi avevo fatto vedere in un video precedente non voglio farvi aspettare troppo quindi ve ne parlo io sono un ragazzino di quasi 40 anni quindi non siate sorpresi da quello che ne state per vedere perché si tratta di Softair o Airsoft se preferite e queste qua sono le mie repliche volevo condividere con voi quando vi dicevo simulazione perché? perché comunque simulazione di guerra diciamo per farla più semplicistica possibile allora per non disturbarvi troppo rispetto a quello che tratto sul mio canale ho deciso di farlo in questo vlog di fine anno in cui beh intanto sicuramente per ringraziarvi del sostegno insomma ragazzi io niente faccio Softair vediamo se si vede così faccio Softair e quindi quello era questa simulazione perché alla fine si tratta di simulazione se non conoscete il Softair e volete che ne parlo non ne parlerò dovrò fare un canale a parte e poi non sono un esperto di Softair sono solo un appassionato inizio adesso anche se era un progetto che avevo da tanto tempo mi dà modo di uscire fuori da casa senza fare sempre simulazione perché si sta seduti poi alla fine e quindi quindi faccio un po' di sport e mi diverto sono delle delle repliche molto molto interessanti io faccio faccio un po' di sniper un po' di assalto ho gli assalti anche a pistola anche se non è una replica non è una pistola se se volete saperne di più la mia compagna mi mi cazzia ragazzi però se volete saperne di più lasciatemi un commento qui sotto magari se fate Softair volete condividere con me le vostre azioni le vostre partite perché no io approfitto di questo primo vlog ragazzi per augurarvi tantissimo bene per questo 2018 che sta arrivando spero che possa pubblicare rapidamente questo video perché in questo momento non ho la DSL perché ho un problema tecnico se non fosse il caso buone feste buon Natale e buon anno a tutti ragazzi grazie ancora una volta per avermi seguito se non l'avete fatto iscrivetevi tanto è gratuito un pollicino in su ci vediamo al prossimo video da Fabrice è tutto ciao buone feste raga ciao grazie a tutti Grazie per la visione!